Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dentro col video. Necona ha una popolazione di 3200 abitanti e si trova in Texas, appena a sud del confine con l'Oklahoma. Lungo la strada principale della città ci sono una manciata di piccole attività commerciali, un negozio di alimentari, un paio di distributori di benzina, un negozio di mangimi, una selleria, una banca, un barbiere e un'azienda di pelletteria che produce guanti da baseball. Sparsi per il resto di Necona ci sono alcune chiese, una scuola superiore, un'arena per rodeo e un polveroso campo da golf pubblico proprio accanto all'ospedale. E c'è ovviamente il Dairy Queen, l'unico fast food di quella cittadina, essendo che gli intrattenimenti a Necona scarsiggiano. Il locale lavora parecchio, riceve regolarmente premi dal Texas Dairy Queen Operators Council, per avere il più grande volume di vendite annuali tra oltre 600 Dairy Queen's nello Stato. Come servizio pubblico il suo proprietario Guy Hill installa una grande insegna elettronica che non solo mostra annunci dei prossimi eventi civici, ma mostra anche una serie di slogan che incoraggiano i residenti della cittadina a condurre una vita migliore. Necona è descritta da alcuni abitanti come una bella comunità, un bel posto dove far crescere i propri figli, ed è proprio per questo che Vicky, la protagonista di questa storia, si stabilisce lì con la sua famiglia. Migrarono dall'Indiana all'inizio degli anni Ottanta, quando lei aveva solo 15 anni, a causa di alcuni problemi di salute del fratello asmatico che necessitava di un clima più secco e di un ambiente più salubre per vivere al meglio. Comprarono una casa di legno fatiscente in Hernietta Street, nella parte est della città. Il padre di Vicky lavorava come meccanico, la madre faceva il doppio turno alla casa di cura di Necona come cuoca. Per aiutare i suoi genitori a sbarcare il lunario, anche Vicky aveva ottenuto un lavoro presso la casa di cura, lavorando dopo la scuola nella lavanderia. Durante il suo primo anno fu promossa a infermiera. Vestiva e spogliava i pazienti, svuotava le loro padelle, faceva i loro clisteri, li lavava e li girava nei loro letti in modo che non si riducessero con piaghe da decubito addosso. Non era certo un lavoro facile per Vicky, che spesso veniva morsa dagli anziani vittime di demenza o molto spesso rabbiosi per essere stati lasciati dai figli in quella casa di cura. Racconta anche che spesso le sputavano addosso, ma Vicky non era come le altre ragazze. Non lavorava in quel posto solo per i soldi. Le piaceva occuparsi degli altri. E infatti Vicky durante un'intervista dice Diventare un'infermiera è sempre stato il sogno della mia vita. Da quando ho visto morire la mia bisnonna, quando ero una bambina, ho pensato voglio dedicare la mia vita ad aiutare le persone. Vicky non infranse alcuna legge durante la sua adolescenza e divenne presto una giovane donna modesta e senza pretese. Nemmeno troppo attenta alla moda, vestiva infatti con abiti di seconda mano. Non è che Vicky non cercasse di farsi notare. Dopotutto era pur sempre una ragazza, come molte altre, e apprezzava di tanto in tanto nelle notti del fine settimana, tornando a casa dal lavoro, passare all'autolavaggio accanto al diary queen dove si ritrovavano i ragazzi delle superiori. Indossava jeans e canottiera e si faceva carina. Un pomeriggio durante il suo primo anno, un operaio Edilele si avvicinò in una sala giochi di Nekona dove la solitaria Vicky a volte andava a giocare a Pac-Man. Si chiama Johnny McLoggin e le disse che era carina. Poche settimane dopo convinse i suoi genitori di essere veramente innamorata e lei e Johnny, che aveva cinque anni in più, si sposarono davanti a un giudice di pace. Vicky e Johnny affrettarono le cose, non si concessero tempo per conoscersi, infatti divorziarono entro un anno. Oggi Vicky, ricordando Johnny e la loro relazione, dice queste esatte parole. Oh, era solo una cosa da adolescente e credo di averlo sposato perché è stato uno dei primi ragazzi a prestarmi attenzione, ma poi mi ha detto che era ancora preso sentimentalmente dalla sua ex ragazza. Vicky dunque tornò a casa dai suoi genitori, si diplomò al liceo nel maggio del 1984 e andò a lavorare a tempo pieno presso la casa di cura. Voleva risparmiare abbastanza soldi per iscriversi a un vicino college per poter diventare un'infermiera professionale autorizzata. Ma nel giro di sei mesi rimase incinta dopo l'incontro con Leroy Carson, un giovane di Nekona, un meccanico autonomo, proprio come suo padre. Il ragazzo le aveva prestato una certa attenzione e dopo un breve periodo disse a Vicky di amarla davvero. Si sposarono nel maggio del 1985 e si trasferirono in una minuscola casa proprio di fronte ai genitori di Vicky. Dopo la nascita di suo figlio Curtis rimase rapidamente incinta di nuovo e nel 1986 di della luce una figlia, Jennifer. Un anno dopo iniziò a frequentare la scuola per infermieri part-time. Ovviamente la vita di Vicky mutò diventando molto frenetica. Doveva crescere due figli, cucinare, pulire la casa, frequentare il college e fare il turno di notte nella casa di riposo. I suoi problemi si aggravarono quando i suoi genitori, che si prendevano cura di Curtis e Jennifer quando Vicky era al lavoro, tornarono in Indiana per prendersi cura del nonno ormai in fin di vita. In questo periodo Vicky stava lavorando così tanto e duramente che neanche riusciva a dormire. Molti dei suoi amici le dissero che doveva rallentare, ma non ascoltò i consigli di nessuno. Continuava a dire che poteva fare tutto. Nel 1989 Vicky divenne un'infermiera professionale autorizzata e gli amministratori della casa di cura di Nakuna la promossero a infermiera del turno di notte. Era così devota al suo lavoro che a volte portava con sé i suoi figli per dare ai residenti i disegni che avevano realizzato a casa. Le piaceva avere a portata di mano copie di True Story, la rivista romantica che comprava ogni mese al supermercato e a tarda notte leggeva articoli ad alcune delle sue pazienti sulle donne che incontravano gli uomini dei loro sogni e vivevano in case con steccati bianchi. A casa cercò di costruire il suo matrimonio come una storia uscita da True Story. Un giorno si fece acconciare i capelli e in seguito guidò per 48 miglia fino a Wichita Falls per fare un servizio fotografico. Indossò una giacca di lame dorato e grandi orecchini ricoperti di pietre preziose e pochi giorni dopo mostrò la foto a Leroy. Leroy però se ne fregò altamente delle foto, la situazione tra i due non era rosa ai fiori e si fiorava ormai lo scatafascio, per questo divorziarono. Secondo Wichy, Leroy le disse che non l'avrebbe mai sposata se non fosse rimasta incinta, che era inoltre diventata una stupida infermiera noiosa. Wichy tuttavia si rifiutò di rinunciare al suo sogno di un matrimonio felice. Iniziò a camminare attorno all'isolato stringendo dei piccoli pesi nelle sue mani cercando di perdere peso in modo che gli uomini non dicessero che stava ingrassando. Nelle sere del fine settimana trovò una babysitter e si presentò con una delle sue amiche, un'altra madre single, in una sala da ballo di musica country non lontana da Nakona, chiamata Third Spar. Nel maggio 1997, dopo aver trascorso un'intera serata al Third Spar senza parlare con nessuno, Wichy decise che si sarebbe fatta avanti con il primo uomo che sarebbe entrato nel locale chiedendogli di ballare. Il candidato perfetto era Kirk Jackson, aveva 31 anni, i due si sedettero insieme e iniziarono a bere fino a diventare brilli. Kirk beveva birra, Wichy pignacolada. Sembra davvero esserci sintonia tra i due, tanto che quando Wichy seppe che Kirk lavorava come aiutanti in una casa di cura nella vicina St. Joe, disse sognante questo deve essere il destino. Poi ballarono su una canzone lenta, tutto come in un film. Il 4 luglio, due mesi dopo essersi incontrati, celebrarono il loro matrimonio a Lagoon Kona. Wichy sistemò la sua casa comprando addirittura un nuovo letto ad acqua così Kirk non avrebbe dovuto dormire nello stesso letto di Leroy. Acquistò inoltre poltrone reclinabili abbinate da mettere davanti al televisore e comprò un cucciolo di chihuahua. Dopo che Kirk venne assunto dal Kona General Hospital per fare il turno di notte come assistente infermiere, anche Wichy trovò un lavoro lì come infermiera professionale autorizzata del turno di notte in modo che i due potessero trascorrere più tempo insieme. Iniziò a seguire i corsi in un college comunitario dicendo ai suoi figli che il suo obiettivo era diventare un'infermiera registrata in modo che potesse avere più responsabilità in ospedale, fare più soldi e un giorno comprare una casa più grande e più bella. La pace nella coppia però non durò a lungo e poco dopo emersero i primi problemi. Kirk non era mai stato sposato e nelle sue sere libere gli piaceva che i suoi amici andassero a casa sua per bere e giocare a carte. Wichy intimò all'uomo di regolarsi dicendo a Kirk per il bene della famiglia devi smetterla i bambini non riescono a dormire. Provò anche a parlargli del suo consumo smodato di alcol provò a parlargli del suo ruolo di marito ma ad ogni tentativo di cambiare le cose Kirk s'arrabbiava la insultava e infine urlandole addosso le diceva oh no tu non controllerai la mia vita. Alla fine del 1999 incapace di gestire la crescente tensione tra sua madre e Kirk Curtis il figlio di Wichy fece le valigie e andò a vivere con le roi. Dopo pochi mesi Jennifer la figlia di Wichy fece lo stesso. Fu durante questo periodo che Wichy andò da un consulente in un centro pubblico della salute mentale nella vicina città di Bowie anche quando andava dal consulente indossava l'uniforme da infermiera in quanto non voleva fare tardi al lavoro nel caso in cui le sue sessioni fossero prolungate quando andava lì si sedeva su una sedia e parlava. Secondo gli appunti del consulente Wichy ammise di essere profondamente depressa e di sentirsi rifiutata e non amata. Disse che stava avendo parecchi sbalzi d'umore. Passava dal pianto più disperato alternando episodi di irritabilità e rabbia. Il consigliere senza dubbio aveva visto molte donne proprio come Wichy mogli logore di provincia legate a mariti cattivi. Proprio per questa ragione non trovò le dichiarazioni di Wichy così allarmanti. Dopo una seconda sessione in cui Wichy disse di essere preoccupata che Kirk avesse una relazione il consigliere le consigliò semplicemente di leggere un libro intitolato Adultery The Forgivable Sin. Fu Jennifer che allora aveva 14 anni che si rese conto presto che stava succedendo qualcosa a sua madre. Quando la vedeva durante i fini settimana sedeva sui gradini fuori dalla porta di casa a fissare il nulla. Stessa cosa accadeva mentre cucinava all'improvviso il suo sguardo si faceva totalmente assente. Un giorno racconta Jennifer era in piedi davanti ai fornelli poi si girò e prese a calci il suo chihuahua cosa che non aveva mai fatto prima. Durante una successiva visita Wichy disse a Jennifer che era andata da un consulente che aveva ipotizzato potesse essere bipolare. Jennifer chiese a sua madre cosa volesse dire la donna quindi le rispose queste esatte parole significa che potrei ucciderti Jenny ucciderti e farla franca. Jennifer una giovane donna magra con i capelli corti e scuri strinse le labbra per impedire loro di tremare non sapeva cosa dire provò un tuffo al cuore ma si ripete che sua madre non poteva parlare davvero a quel modo non stava dicendo sul serio ma la paura si insinuò in Jennifer senza lasciare spazio alla buona fede iniziò quindi a dormire con una mazza da baseball accanto al suo letto a questo punto Vicky era il terzo matrimonio fallito e con l'irrigidirsi di Jennifer e l'allontanamento di Curtis iniziò a sentirsi davvero sola ed abbandonata dovette pure premurarsi di pagare il mantenimento dei figli alle roi che ormai se ne occupava a tempo pieno un giudice accettò la richiesta ad alimenti del suo ex marito ed ordinò a Vicky di pagare 300 dollari al mese Vicky in realtà quanto dice stava abbastanza bene non era così sconvolta questa situazione sottolinea non aveva dato vita a nessun vero istinto omicida almeno fino a quel momento mentre Vicky in un'intervista parlava della vita in ospedale l'intervistatore le chiese se avesse mai incontrato qualcuno che aveva conosciuto mentre frequentava la Nakuna High School Vicky raccontò di aver visto due donne che erano delle cheerleader quando frequentavano le scuole superiori le due abitavano in un quartiere che i residenti più poveri di Nakuna chiamavano Snob Hill le due donne si recarono in ospedale per vedere una delle loro madri che era una paziente mentre erano in piedi accanto al letto Vicky entrò per controllare la flebo non hanno mai guardato nella mia direzione disse ma ho cambiato la flebo e mi sono presa cura della mia paziente questo è il mio dovere aggiunse a voce bassa sarebbe stato così facile per loro salutarmi o ringraziarmi ma mi hanno guardata attraverso a questo punto la donna aveva trascorso quasi due decenni a prendersi cura dei residenti di Nakona dava loro le medicine puliva il loro vomito e quando arrivava il momento per quei pazienti di lasciare l'ospedale li aiutava a salire in macchina e poi rimaneva nel parcheggio salutandoli eppure la maggior parte dei suoi pazienti e delle loro famiglie erano proprio come le cheerleader guardavano attraverso di lei non la vedevano realmente in effetti i cittadini sapevano chi fosse Vicky ma conoscevano poco o nulla di lei insomma era solamente un'infermiera un'infermiera della quale a nessuno interessava proprio come le ripeteva l'erroa prima della rottura possibile che Vicky nel suo stato d'animo depresso avesse cominciato a risentirsi per quelle persone per la loro indifferenza aveva cominciato a rimuginare sul fatto che quei pazienti avrebbero avuto una vita bella in una certa misura grazie al suo servizio lei invece a malapena riusciva ad avere una vita forse per questa ragione l'11 dicembre del 2000 Vicky riempì una seringa di cloruro di Mivarcurio poi si fece strada nella stanza di una vedova centenaria di nome Donnie Jennings matriarca di una delle famiglie di pionieri della città Donnie Jennings era nota per essere una donna imperiosa resigente non era felice quando non riceveva abbastanza attenzioni all'infermiera Vicky Donnie Jennings non piaceva molto Vicky si era stancata di avere a che fare con la vedova Jennings che era stata ricoverata in ospedale per stitichezza e disidratazione forse era ugualmente stufa dei membri della famiglia Jennings che non si erano mai presi la briga di ringraziarla o di fare qualche chiacchiera con lei il mivarcurio cloruro viene utilizzato dai medici per paralizzare momentaneamente il sistema respiratorio di un paziente in modo che un tubo di ossigeno possa essere inserito nella trachea non appena l'ossigeno inizia a fluire gli effetti del farmaco svaniscono rapidamente ma se il dosaggio è abbastanza alto e se nessun tubo spinge l'ossigeno nei polmoni il farmaco è mortale Vicky probabilmente iniettò a Jennings il cloruro di mivarcurio tramite la fleboclisi in poco tempo Jennings smise di respirare diventò velocemente cianotica e le uscì della schiuma dalla bocca cercò di chiedere aiuto ma i suoi polmoni paralizzati e non erano in grado di aspirare ossigeno poteva mettere solo un debole rumore ansante prima di morire soffocata l'assistente di un'infermiera trovò la signora Jennings all'1.45 senza vita anche se sembrava strano che avesse semplicemente smesso di respirare quando fu controllata l'ultima volta a mezzanotte i suoi segni vitali erano normali la sua morte non venne considerata sospettosa a causa della sua età Vicky era in piedi vicino alla stazione dell'infermiere si fece avanti e disse di conoscere la famiglia della vecchia vedova gli avrebbe quindi chiamati di persona per dar loro la triste notizia ma l'ho vista solo quella sera prima disse Yuvine Foster una delle figlie di Jennings quando Vicky la chiamò mamma mi ha sorriso oh Yuvine la vita può essere così dura a volte disse Vicky la sua voce era burrosa come un biscotto non trapelava nessuna traccia d'emozione negativa mentre tenuamente diceva personalmente so bene quanto possa essere difficile Yuvine non posso dirti quanto mi dispiace per la tua perdita non aveva piani Vicky per mettere altre vittime quel primo affare della vedova Jennings sarebbe stato anche l'ultimo se lo promise non era ancora arrivata alla follia ma ad uno stato di insofferenza tale da decidere di mettere quella famiglia a tacere un momento di rabbia si disse ma forse dopo che il corpo di Jennings venne portato via Vicky ebbe un'altra sensazione sapeva che quello che aveva fatto era sbagliato ma ora che era finita si sentiva dannatamente esaltata nelle prime ore del 20 dicembre del 2000 Vicky entrò nella stanza di una contadina di 87 anni di nome Elgie Houston che era stata ricoverata in ospedale con una gamba rotta tirò fuori una seringa e le iniettò del cloruro di Mivar Curio meno di 20 minuti dopo scese all'altra estremità del corridoio e iniettò nuovamente la sostanza anche a Sanford Mitchell un pensionato ricoverato per cirrosi tornò poi nella stanza di Elgie Houston dove le infermiere erano raccolti intorno al suo letto cercando freneticamente di salvarla e disse loro voi tutti qualcuno dovete controllare signor Mitchell nessuno sospettava che quelle sarebbero state le prime vittime di una lunga lunghissima lista quattro giorni dopo la vigilia di Natale andò a cercare la cinquantenne Barbara Atbury che era andata in ospedale per un comune mal di schiena e più tardi quel giorno eliminò Boyd Burnett di 87 anni che era stato portato in ospedale perché si sentiva disorientato cinque giorni dopo il 29 dicembre uccise l'ottantenne James Gore e solo sette ore dopo si sbarazzò della 79enne Jarty Matthews che era stata ricoverata in ospedale a causa della demenza e di un'infezione delle vie urinarie mentre le infermiere cercavano di salvare James Gore e poi Jarty Matthews Vicky stava in fondo a ogni stanza e osservava in silenzio assente nel solo mese di dicembre sette pazienti del Nacona General morirono dopo essere andati in arresto respiratorio nessuno di loro aveva avuto in passato gravi problemi respiratori due pazienti avevano improvvisamente smesso di respirare a pochi minuti l'uno dall'altro un evento sconosciuto anche negli ospedali più grandi come potevano i dottori non sospettare che stesse accadendo qualcosa di bizzarro eppure il dottor Change Dingler uno dei pochi medici che lavoravano presso l'ospedale suo fratello il dottor Lynn Dingler era il capo del personale in seguito dichiarò in una deposizione civile che presumeva che l'ospedale stesse solo vivendo un periodo sfortunato in un'altra deposizione l'amministratore delegato dell'ospedale Charles Norris affermò di credere che nulla di anormale stesse accadendo perché quasi tutti i pazienti erano anziani e gli anziani si sa muoiono più spesso durante i mesi freddi incredibilmente i medici e gli amministratori non si insospettirono quando altri cinque pazienti morirono dopo essere andati in arresto respiratorio durante i primi otto giorni di gennaio l'amministrazione infatti fu così contenta di come stavano andando le cose che approvò un annuncio pubblicitario che iniziò a girare sul Nekona News presentava tutte le infermiere e gli assistenti infermieristici dell'ospedale le infermiere sono alcune delle tante star che offrono cure compassionevoli di qualità al Nekona General Hospital si legge nella prima riga dell'annuncio Vicky venne posizionata in cima all'annuncio sorrideva e aveva i capelli biondi raccolti a metà gennaio del 2001 Vicky divenne più audace una notte iniettò cloruro di Viva Arcurio nella flebo di Jimmy Ray Holder il tutto mentre sua moglie sedeva accanto a lui cercò addirittura di colpire due volte un'altra paziente Oma Wyler di 95 anni la prima volta che iniettò il cloruro di Viva Arcurio delle altre infermiere trovarono Oma Wyler che respirava ancora dunque furono in grado di rianimarla quattro giorni dopo Vicky tornò nella stanza di Oma Wyler facendole nuovamente l'iniezione questa volta uccidendola forse i dottori non erano perplessi per le morti ma sicuramente la gente in città lo era e come Tracy Messler l'editore del Nconan News disse a sua moglie Linda che non aveva mai dovuto pubblicare così tanti necrologi erano fino a 5 o 6 a settimana invece dei soliti 3 o 4 la proprietaria di uno dei negozi di fiori della città disse a un'amica che stava facendo affari quasi da record vendendo fiori a persone in lutto i direttori delle due pompe funebri della città stavano vivendo un anno così eccezionale che iniziarono a parlare di acquistare nuovi carri funebri l'unica attività di Ncona che stava subendo un duro colpo da tutte le morti era la diary queen che inviava sempre piatti e bicchieri di carta a casa di chiunque morisse in modo che potessero essere utilizzati per i ricevimenti dopo i funerali in verità diciamolo alcune infermiere dell'ospedale si dimostrarono confuse dalle morti un paio di loro scherzosamente ma un po' a disagio iniziarono a chiamare il turno di notte la squadra assassina un'infermiera trovò strano che Vicky fosse l'ultimo membro dello staff che molti dei pazienti avevano visto prima di morire un'altra infermiera aveva trovato strano che invece di chiamare dalla stanza Vicky si fosse avvicinata alla postazione delle infermiere un paio di volte per annunciare di aver notato che un paziente aveva difficoltà a respirare Donna Mc Culver una delle infermiere del turno di notte notò che ogni volta che i pazienti si comportavano in modo scortese o indisciplinato Vicky era la prima a dirigersi verso le loro stanze dicendo ci pensero io o lo sistemerò forse se le infermiere avessero saputo di più sulla relazione di Vicky con alcuni dei pazienti che erano morti avrebbero potuto fare due più due e rendersi conto che quelle non avevano proprio l'aria ad essere morti occasionali Barbara Atbury e Boyd Burnett ad esempio erano spesso visitati da alcuni membri della loro famiglia che erano stati compagni di Vicky alle superiori e non si erano mai comportati con lei in modo amichevole prendendola in giro e stuzzicandola Stanford Mitchell fissava i suoi segni e la chiamava infermiera tettona il figlio di LG Houston che era un tecnico medico di emergenza presso il Nacona General lavorò part time come ministro in una piccola chiesa evangelica se avessero saputo tutto questo l'infermiera avrebbero potuto essere molto più curiose rispetto agli eventi molto strani accaduti la notte dell'11 gennaio solo tre ore dopo che un'infermiera aveva trovato morto un malato di polmonite J.T. Nichols un pensionato di 82 anni un'altra infermiera trovò senza vita John Williams un allevatore petroliere di 78 anni in pensione che era in ospedale a causa di una piaga al piede Vicky era proprio davanti alla porta d'ingresso dell'ospedale in attesa che la famiglia di John Williams si presentasse tra i primi ad arrivare c'era Pat il figlio di John Williams un supervisore alla manutenzione delle cinghie per un impianto di produzione di tubi nella sua giovinezza Vicky aveva avuto una grossa cotta per Pat lei piaceva ma come i suoi fratelli lui la ignorava quando arrivò in ospedale Vicky gli si avvicinò e gli disse Pat sono così dispiaciuta per la tua perdita so come devi sentirti Vicky spiegò a Pat che aveva portato John Williams fuori quella sera e gli aveva lasciato fumare una sigaretta Williams gli aveva detto che aveva vissuto una bella vita ed era pronto per partire Pat disse in seguito ho pensato papà non era nemmeno così malato perché l'avrebbe detto poi portò Pat e i suoi fratelli nella stanza per vedere il loro padre Pat quindi aggiunse e non dimenticherò mai quella scena finché vivrò Vicky non l'aveva affatto sistemato le sue guance gli occhi erano infossati la sua bocca era aperta come se stesse urlando alla fine tuttavia nessuna delle infermiere riuscì a convincersi che Vicky fosse in qualche modo coinvolta nell'uccisione dei pazienti dopo tutto era Vicky l'infermiera gentile e premurosa secondo Barbara Perry direttrice infermieristica dell'ospedale per tutto il 2000 l'ospedale non aveva ricevuto un solo reclamo da un paziente sulla personalità di Vicky o sulle sue capacità infermieristiche nemmeno uno ma poi il 30 gennaio 2001 si scatenò all'inferno quella notte Vicky iniettò cloruro di Mivarcurio nella flebo di Orwell Moore 82 anni che un giorno due prima aveva chiamato Vicky culo grasso pochi minuti dopo l'infermiera camminò lungo il corridoio dentro nella stanza di una ragazza di 14 anni Lydia Weterred che era in ospedale con un appendicite Lydia conosceva i figli di Vicky secondo i pettegolezzi della scuola aveva recentemente rifiutato Curtis per un appuntamento ciao Lydia disse Vicky mentre le iniettava cloruro di Mivarcurio nella flebo dicendole che il farmaco era un antidolorifico Vicky uscì dalla stanza e quasi immediatamente Lydia disse a sua madre che era seduta accanto a lei che le faceva male il petto improvvisamente non riuscì più a parlare e iniziò a grattarsi la gola con le mani la madre di Lydia iniziò a urlare così venne subito chiamato un medico che giunse sul posto si precipitò nella stanza di Lydia con altri infermiere e riuscì nel tentativo di rianimarla il giorno dopo Vicky andò a cercare altri due pazienti poco prima del cambio di turno delle 7 del mattino iniettò cloruro di Mivarcurio in una donna di 46 anni di nome Donna Kornet mentre era ancora cosciente Donna Kornet riuscì a raggiungere il pulsante della sua infermiera e sussurrargli non riesco a respirare forse sto avendo una reazione o una cosa del genere mentre un medico e un'infermiera si precipitavano nella sua stanza un membro dello staff gridò che un altro paziente era andato in arresto respiratorio era la 35enne Lisa Pelchi la stessa Lisa Pelchi che frequentava il third spar il dottore e le infermieri arrivarono da Lisa Pelchi in tempo per intubarla prima che ci fosse un danno cerebrale Donna Kornet tuttavia non riprese mai conoscenza e morì poche settimane dopo ormai l'ospedale era in subbuglio quattro arresti respiratori in due giorni cosa stava succedendo fortuna volle che l'attenzione di un tecnico farmacista della casa di cura insinuò il dubbio di qualche mela marcia nei dipendenti di quel posto il farmacista fece infatti notare a Len Dingler capo del personale che mancavano non poche fiale di quel liquido pensato per intubare i pazienti dopo aver esaminato i registri e gli amministratori dell'ospedale appresero che Vicky non solo stava lavorando al momento di ogni arresto respiratorio ma che era spesso l'ultimo membro dello staff che era stato visto controllare i pazienti che erano successivamente morti mentre stavano decidendo il miglior modo per agire e come fronteggiarsi con lei però commisero un grave errore a mio avviso inspiegabilmente non ordinarono a nessuno di tenerla d'occhio e a Vicky fu data la possibilità di vendicarsi di suo marito il nonno di Kirk ossia Jackson un ex coltivatore di cotone di 91 anni e un predicatore andò in ospedale perché aveva la febbre molto alta il 4 febbraio Vicky si avvicinò lentamente alla stazione dell'infermiere e con voce calma disse che pensava che il predicatore Jackson fosse morto poi lo disse a Kirk che uscì dall'ospedale e pianse disperato due giorni dopo Charles Norris l'amministratore delegato dell'ospedale incontrò il giovane capo della polizia della città Kent Holcomb per parlare delle morti Kent Holcomb chiamò i Texas Rangers e l'FBI quando le forze dell'ordine si resero conto che non avevano un briciolo di prova fisica che dimostrasse che Vicky stava uccidendo dei pazienti installarono una telecamera nascosta puntata verso una fornitura di cloruro di Mivarcurio sperando di poter catturare le immagini di Vicky che rubava alcune fiale per impedire a Vicky di venire a conoscenza delle loro indagini chiesero agli amministratori e ai medici dell'ospedale di non rivelare nulla di ciò che stavano facendo di conseguenza la vita di Vicky andò avanti come al solito a metà febbraio il personale del turno di notte organizzò una festa di compleanno per Vicky e sua suocera Angela cenarono con una torta e Vicky e Angela ricevettero in dono delle candele una lozione per il corpo e degli orsacchiotti Vicky stava lì teneva in braccio il suo orsacchiotto dicendo alle altre infermiere grazie a tutti grazie a tutti non sapete cosa significa per me un paio di giorni dopo la festa di compleanno uno dei residenti più noti di Nakona Donnelly Reid di 61 anni venne ricoverato in ospedale per la sindrome post poliomielitica ricevete delle medicine si sentì subito meglio e si preparò a tornare a casa ma nelle prime ore del mattino del 17 febbraio Vicky si presentò alla stazione dell'infermiere e disse ad una collega è meglio che tu vada a controllare il signor Reid stai mettendo un suono sboffante simile a quello di un cavallo un dottore e altri infermieri riuscirono a rianimare Reid e domandarono cosa fosse successo Vicky disse che un'infermiera dai capelli biondi era entrata e aveva messo qualcosa nella sua flebo quindi Vicky incolpa un'altra infermiera bionda poi aveva sorriso e aveva detto posso fare qualcos'altro per te prima che fosse fuori dalla porta Donnelly Reid disse sentivo come se una molla si stesse avvolgendo nella mia testa non riuscivo a respirare due giorni dopo l'attacco a Reid le forze dell'ordine scoprirono una siringa in un bidone della spazzatura a casa di Vicky e Kirk i test successivi dimostrarono che conteneva tracce di cloruro di Mivarculia quando intervistarono Kirk disse che non aveva idea di come fosse arrivata lì quella siringa in un'intervista separata Vicky disse la stessa cosa con un'espressione seria sul viso insistete sul fatto di essere sinceramente scioccata dal fatto che dei pazienti fossero stati assassinati aggiunse che poteva pensare a un certo numero di membri dello staff che avrebbero potuto essere responsabili ma per il momento non voleva puntare il dito il giorno successivo gli amministratori dell'ospedale licenziarono sia Vicky che Kirk sebbene nessuno credesse che Kirk avesse qualcosa a che fare con gli omicidi essendo solamente assistente di un'infermiera non gli era permesso di maneggiare farmaci e non lavorava quando erano avvenuti un paio di omicidi Norris disse che il suo licenziamento era nel migliore interesse dell'ospedale non passò molto tempo prima che la notizia che Vicky era sotto inchiesta per omicidio si diffuse sorprendentemente Vicky non si nascose rimase a casa sua in Arrieta Street e continuò a presentarsi al Diary Queen il ristorante di Nakona per ordinare il suo cestino di taco mentre andava al suo stand sul retro sorrideva ai commensali sbalorditi proprio come aveva sempre fatto dicendo a chiunque le chiedesse che non aveva nulla a che fare con gli omicidi un pomeriggio si imbatté persino in Pat Williams che aveva visto l'ultima volta in ospedale la notte in cui aveva ucciso suo padre come stai Pat? chiese Vicky con simpatia è così bello vederti l'uomo raccontò di essere rimasto senza parole come avesse assistito all'apparizione di un fantasma se un uomo sospettato di aver ucciso mio padre si fosse avvicinato e mi avesse salutato l'avrei gettato attraverso una lastra di vetro ma era Vicky disse l'uomo così sono tornato al mio camion nel parcheggio e ho chiamato mia moglie e gli ho detto tesoro buon dio onnipotente Vicky mi ha salutato cosa faccio? nessuno semereva più confuso sulla svolta degli eventi di Kirk sebbene sebbene ammise ai suoi amici e agli investigatori della polizia che Vicky non era contenta di come era andato a finire il loro matrimonio disse che non poteva immaginare che fosse così infelice da voler uccidere delle persone alla fine tuttavia fece bagaglie e lasciò la città dicendo a Vicky che aveva problemi a dormire apparentemente aveva continui incubi sognava la donna infilzarlo ripetutamente con un ago non appena se ne fu andato una notte Vicky tornò con un'amica al third spar questa volta alcuni cowboy le chiesero di ballare la sua amica disse che quella notte la passò a ridere e sorridere si comportò come se non avesse alcuna preoccupazione al mondo forse sorrideva perché era davvero innocente o forse stava sorridendo per un motivo completamente diverso per la prima volta nella sua vita non veniva ignorata o disprezzata Vicky si stava godendo l'emozione d'essere notata prima di poter arrestare Vicky per omicidio gli investigatori della polizia dovevano essere in grado di provare che i pazienti erano stati uccisi ciò significava ottenere un'ingiunzione dal tribunale per riesumare i corpi di quei pazienti che avevano subito arresti respiratori e quindi eseguire autopsie per determinare se quei corpi contenessero cloruro di mivarcurio le riesumazioni iniziarono nel giugno del 2001 a quel punto molte famiglie avevano già assunto avvocati per citare in giudizio l'ospedale e i suoi medici per negligenza Lydia l'adolescente che era stata in ospedale con un appendicite non solo citò in giudizio l'ospedale ma scrisse un articolo per la sua classe di inglese del liceo sulla sua esperienza di premorte con il passare dei mesi perseverava a comportarsi come se non avesse fatto nulla di male trovò un lavoro come infermiera professionale autorizzata in una casa di cura a Gainesville appena esti Nekona dicendo agli amministratori che le piaceva lavorare con i pazienti più anziani ma venne licenziata poche settimane dopo gli amministratori la sorpresero infatti a tentare di rubare dei farmaci alla fine nel luglio del 2002 Vicky venne arrestata in un negozio di alimentari a Bowie stava lavorando nel reparto gastronomia e preparava panini per i giornalisti di tutto lo stato la storia sembrava troppo assurda per essere vera presto infatti corsero a Nkona sperando di parlare con Vicky ma la donna rifiutò tutte le richieste di interviste nella prigione della contea di Montaug trascorse il suo tempo a leggere i numeri di True Story e a guardare I.R inoltre lesse anche la copertura del suo caso da parte di Nkona News dove veniva regolarmente chiamata l'angelo della morte divenne amica di un paio di detenute dicendo loro che era un'infermiera amorevole che non avrebbe mai fatto del male a nessuno ma secondo una dichiarazione giurata che una di quelle detenute avrebbe poi consegnato al procuratore distrettuale l'avvocato di Vicky le inviò un pacco pieno di prove che sarebbero state utilizzate al suo processo nella confezione c'erano le foto dell'autopsia che un medico legale aveva scattato a tutti i corpi riesumati la detenuta disse a Vicky come deve essere terribile per le famiglie di coloro che sono stati uccisi Vicky la guardò e all'improvviso lasciò che l'altro lato della sua personalità emergesse fanculo quelle famiglie disse passò un anno mentre gli avvocati si preparavano per il processo poi un altro e un altro ancora e poi arrivò la richiesta a sorpresa quando i giornalisti chiesero all'avvocato di Vicky Bruce Martin perché non si fosse dichiarata colpevole lui disse che Vicky gli aveva detto che era importante per lei che la giuria non la trovasse mai colpevole di omicidio non ha mai ammesso la colpa e non è mai stata condannata da una giuria disse il suo avvocato tutto ciò significa qualcosa per lei apparentemente nessuno sollevò la possibilità che Vicky si fosse rifiutata di dichiararsi colpevole perché semplicemente non si sentiva molto in colpa per quello che aveva fatto dopo una serie quasi infinita di ritardi illegali il processo di Vicky ebbe cambio di sede e molti residenti di Nekona si prepararono a recarsi in caravana a San Angelo la città del Texas occidentale dove si sarebbe tenuto il processo sperando di poter finalmente ascoltare la storia completa di ciò che era accaduto e le motivazioni di tali gesti assurdi e atroci ma poco prima dell'inizio della selezione della giuria Vicky si mise di fronte al giudice affermando a bassa voce che non desiderava contestare le accuse di omicidio capitale dopo una breve udienza il giudice quindi la condannò all'ergastolo Vicky venne scortata via sembrava dunque che il mistero degli omicidi non sarebbe mai stato risolto ma poche settimane dopo Skip Hollandsworth un giornalista del Texas Monthly ricevette la notizia che Vicky aveva accettato di vederlo aveva letto la copertura giornalistica del suo caso e voleva che la gente capisse che sebbene avesse dichiarato di non contestare le accuse ciò non significava che fosse colpevole così Skip andò alla prigione della contea di Montaug dove Vicky era in attesa del trasferimento presso una prigione di stato il giornalista entrò in una delle stanze dei colloqui nell'area dei visitatori e la vide dietro una finestra di plexiglass gli fece un sorriso quasi timido e con voce sommessa Vicky disse salvia lei signor Hollandsworth hai fatto un viaggio sicuro ho sentito che c'è stata un po' di pioggia ed ero preoccupata se fosse capitato un incidente durante la prima visita Skip Hollandsworth fece tutto il possibile per convincere Vicky a confessare eppure lei continuava a ripetergli ancora e ancora che non era un mostro e che si sentiva dispiaciuta per tutte le famiglie che avevano perso i propri cari ma non cambiò mai la sua storia Vicky infatti gli inviò una serie di lettere per ricordargli educatamente che non aveva ucciso nessuno alla fine di ogni lettera chiedeva di trasmettere i suoi migliori auguri alla sua famiglia e firmava sempre ogni lettera con rispetto Vicky Jackson ad aprile andrò a trovarla un'ultima volta visto che di lì a poco sarebbe stata trasferita i suoi capelli erano ben pettinati e aveva un po' di trucco sul viso i due parlarono di Curtis suo figlio che viveva ancora a Nacona facendo un lavoro part time e di Jennifer sua figlia che si stava arruolando in Marilla esaminarono alcuni dettagli in più su ciò che era accaduto alla Nacona General tanti anni prima Vicky poteva percepire che il giornalista non credeva a una sola parola uscita dalla sua bocca ma l'uomo invece di avere un confronto drammatico in cui avrebbe potuto definirla bugiarda e assassina disse che sua sorella minore gli aveva inviato una lettera lesse una parte della lettera ad alta voce Vicky è un individuo straordinario mostra compassione e preoccupazione per tutti i tipi di persone indipendentemente dal loro background ha scelto di iniziare la sua carriera infermieristica in modo da poter condividere quella compassione e quella preoccupazione su base quotidiana con le persone proprio come aveva fatto in precedenza Vicky fissava un punto nel muro dietro il giornalista per la prima volta da quando l'aveva incontrata Vicky trattenne le lacrime era una persona compassionevole disse la sua voce era così dolce e bassa che il giornalista dovette sporgersi dal tavolo per sentire cosa stava dicendo ho passato tutta la vita cercando di essere buona qualcuna te l'ha detto che ho fatto tutto il possibile per essere una brava infermiera e una brava persona stava per dire di più Vicky ma si bloccò così il giornalista si rese conto che era vicino a una confessione che però non avrebbe mai ottenuto Vicky per alcuni istanti parlò della ragazza che era una volta parlarono ancora per qualche minuto poi un funzionario della prigione gli disse che era ora di andare via che il tempo era scaduto si alzò dunque augurò buona fortuna a Vicky le disse la prigione di stato può essere molto più dura di una prigione di contea Vicky rispose beh molto presto mi lasceranno uscire con gli altri detenuti per lavorare nei campi e raccogliere le verdure e hanno una bella infermiera medica qui un'infermiera chiese il giornalista Vicky Annui bella sì disse il suo viso si illuminò forse un giorno mi lasceranno lavorare lì detto questo io ho finito di parlare in questo video fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso come al solito ci becchiamo nei commenti anche perché sono sempre molto interessata alle vostre opinioni e leggo tutti i vostri commenti anche se magari non riesco a rispondere a tutti vi leggo sappiatelo io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti mi raccomando a tutti i nostri mi raccomando a tutti i nostri